I primi vaccini del VCO saranno in arrivo sabato, andiamo a prenderli a Vercelli dove li hanno depositati oggi. Li distribuiremo per la prima volta domenica mattina ai nostri operatori che si saranno prenotati in questi giorni. Nelle prossime settimane parte la campagna vaccinale sia per tutti gli operatori delle aziende collegate all'azienda sanitaria locale, sia agli operatori e agli ospiti dell'RSA. Nel giro di alcune settimane noi contiamo di aver realizzato circa 5.000 vaccini e 5.000 richiami. Quindi prima fase destinata agli addetti ai lavori e agli ospiti dell'RSA. Le altre persone in questo momento che cosa devono fare? Le altre persone sono le restanti persone della popolazione che non rientrano in questo momento nelle categorie che abbiamo citato. Queste persone saranno raggiunte dai vaccini secondo un programma di priorità che è stato deciso e che verrà perfezionato a livello nazionale ed europeo nel corso dell'anno 2021. Secondo un programma che prevede diversi tipi di priorità, vuoi per età anagrafica, vuoi per tipologia di paziente e quindi per eventuali patologie o gruppi di patologie da cui si sia affetto e successivamente la restante parte della popolazione cosiddetta sana. Gli ospiti dell'RSA che cosa devono fare? Saranno vaccinati quindi automaticamente in questa prima fase? Gli ospiti dell'RSA li raggiungeremo noi direttamente, manderemo delle echipe vaccinali all'interno dell'RSA. Alcune RSA saranno in grado di autogestirsi, in ogni caso noi gli daremo il supporto e il vaccino. In ogni caso gli ospiti in questo momento devono fare una cosa soltanto, rendersi disponibili ad essere vaccinati. Per molti che hanno gli amministratori di sostegno, ciò significa che i loro amministratori di sostegno devono consentire attraverso la sottoscrizione del consenso informato questa vaccinazione e per chi non ce l'ha c'è da fare, e questo sarà un onere molto importante da parte delle strutture sanitarie, un procedimento presso il Tribunale per l'autorizzazione all'effettuazione della vaccinazione. L'ASL-VCO è pronta per questa campagna? Noi ci stiamo preparando da alcune settimane, stiamo in queste ore facendo gli ultimi ritocchi al nostro programma operativo sulla base delle indicazioni che abbiamo ricevuto nelle ultime ore della serata di ieri. E sì, contiamo di essere pronti, è per noi un giorno importante. Domenica ci sperimenteremo con la vaccinazione sulle due sedi di Verbani e Domodossola, con numero consistente di persone, circa un migliaio di dipendenti che saranno vaccinati e poi partiremo nella settimana prossima con la campagna nelle strutture residenziali.